C'è molto dalla città di Napoli, Napoli è già un'area di sosta ben raggiungibile e questo la renderà ancora più sostenibile, la renderà più verde, più green. Anche quest'anno al Salone del Camper si è tenuta la premiazione del Bando i Comuni del Turismo in Libertà, organizzato come sempre da PC, Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Feder Terme, Feder Parchi e FE. La bellezza di questa operazione è che oltre a dare le premie stiamo facendo il Giro d'Italia, il Giro d'Italia di tutti i borghi, le città più belle dove i turisti in libertà possono essere accolvi. Al Bando, giunto alla sua sedicesima edizione, hanno aderito 141 amministrazioni, ma solo 5 hanno vinto, tra cui il Comune di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata, che si è giudicato la categoria straordinaria inserita quest'anno, completamente dedicata alle zone colpite dal terremoto del centro Italia nell'agosto 2016, a cui andranno eccezionalmente 30.000 euro per la realizzazione di un'area di sosta multifunzionale, che potrà favorire la ripresa economica del territorio attraverso l'accoglienza dei turisti in libertà. Per quanto riguarda la categoria speciale alla quale APC ha voluto dedicare un premio in questa sedicesima edizione del Bando dei Comuni in Libertà, il premio è stato assegnato al Comune di Serravalle del Chienti, in provincia di Macerata, proprio per sottolineare la vicinanza di APC a questi comuni fotterremotati e fortemente colpiti dal sisma di agosto 2016. Per gli altri quattro comuni il contributo APC sarà come al solito di 20.000 euro per un totale di 110.000 euro messi a disposizione per la realizzazione di un'area di sosta attrezzata per veicoli ricreazionali. Per il Nord Italia è stata premiata Rocca dei Baldi in provincia di Cuneo, dove la futura area di sosta sarà il punto di riferimento dei camperisti per visitare non solo l'antico castello del XII secolo, ma anche i suoi bellissimi parchi. Città della Pieve in provincia di Perugia vince per il centro Italia, oltre che per il progetto, anche per i suoi indimenticabili scorci medievali, la posizione invidiabile da cui domina la valle di Chiana. Per il sud di isola e bel passo in provincia di Catania, qui l'Etna è la grande attrazione del luogo, dove è possibile anche sciare con una suggestiva vista sul mare. Infine, per ristrutturazione e implementazione, il premio è andato a Napoli, dove assiede già una bella area di sosta presso il Parco dei Camaldori, per garantire a questa forma di turismo lo sviluppo e la qualità che merita anche in grandi città turistiche come appunto Napoli. Grazie a tutti.